La conferenza dei servizi deve e sta, devo dire, da questo punto di vista individuando tutto il necessario per dare indicazioni al Ministero, al MIUR, per la prosecuzione dell'attività della Facoltà di Medicina qui a Taranto. Ovviamente siamo sicuramente d'accordo sulla necessità, secondo le regole universitarie, che la sede, nella prospettiva, deve coincidere con il cosiddetto Policlinico di Taranto, che è quello in costruzione al San Cataldo. Nell'Emore, evidentemente, la sede principale della Facoltà di Medicina continuerà ad essere la cittadella della carità, dove ovviamente cercheremo di rendere i servizi di mobilità degli studenti i più rapidi ed efficienti possibili, in modo da superare tutte le remore che sono state mostrate con riferimento a questa sede. Insomma, la determinazione della Regione, del Comune, dell'Università, della ASL, per trasportare finalmente, definitivamente, la Facoltà di Medicina qui a Taranto è fortissima e determinata. Ovviamente bisogna rispettare le regole previste per tutte le Facoltà di Medicina che appunto prevedono che esse siano insediate dentro gli ospedali universitari.